Il capologo Peligno ospiterà l'11 e 12 aprile un grande evento medico-scientifico. Al Teatro Comunale Maria Caniglia si svolgerà il primo congresso medico nazionale città di Sulmona. Tra medici ed accompagnatori è prevista la presenza di circa 500 persone. L'amministrazione comunale si è assicurata il convegno fino ai prossimi 5 anni. Diventerà un appuntamento fisso che garantirà una promozione per il territorio con ricadute economiche nelle giornate del congresso. Saranno presenti tutti gli ordini professionali legati al mondo della medicina. La presentazione è avvenuta nell'aula consigliare di Palazzo San Francesco alla presenza di tutte le categorie interessate dagli albergatori al mondo della scuola e della cultura perché non è il congresso dell'ordine dei medici, hanno spiegato agli organizzatori, ma della città di Sulmona. Il sindaco Peppino Ranalli. Uno sforzo di una grande manifestazione da proseguire nei 5 anni del nostro mandato per ridare a Sulmona quella centralità persa negli scorsi anni. È stato un grosso sforzo portarlo qui a Sulmona, un grande impegno. Fa autore dell'iniziativa il dottor Maurizio Proietti, responsabile scientifico del congresso, insieme a Francesco Fagnani di Alba Auxilia. Abbiamo deciso Sulmona per un semplice motivo. Abbiamo caratterizzato l'evento perché innanzitutto l'Abruzzo la vediamo come regione verde d'Europa. La provincia dell'Aquila è la provincia verde d'Europa. Sulmona probabilmente è la città che sta nei parchi, in mezzo ai parchi. Fare un congresso sull'inquinamento, farlo a Milano o a Roma non era il caso. Abbiamo organizzato noi dell'Aquila. Mi hanno riconosciuto il merito di averlo un po' organizzato, ideato, sviluppato nella forma, il tipo di intervento. È chiaro che una voce in più per Sulmona ce l'avevo e quindi ho preferito portarmelo a casa. Ma portarmelo a casa, anche se qualcuno ha remato contro dei nostri concittadini, però stavolta forse sono stati più quelli bravi e quindi l'amministrazione veramente, devo dire che ha capito immediatamente la valenza, l'ha portata. Gli interventi al congresso verteranno su professione, ambiente, salute e sviluppo, ma il tema principale sarà quello dell'inquinamento della catena alimentare. Qual è l'incidenza sul territorio? Il dottor Proietti ha spiegato che attualmente i dati non sono a disposizione, in quanto la precedente amministrazione comunale non ha voluto fare seguire uno studio sull'inquinamento dell'aria che avrebbe svolto il Mario Negri Sud. Saranno di alto livello le tematiche del congresso, voluto fortemente dal presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici, il senatore Amedeo Bianco. Gli argomenti trattati saranno oggetto di aggiornamento per tutti gli ordini provinciali d'Italia. Collaboreranno alla riuscita dell'evento organizzazioni culturali come la Giostra Cavaleresca e il Certame Novidianum Sulmonense, che celebrerà la nuova edizione in concomitanza con il congresso medico. Per i partecipanti saranno organizzate anche visite guidate alla città. La soddisfazione del presidente del Consiglio Comunale, Franco Casciani. È una manifestazione che si andrà a inserire nel calendario della città di Sulmona come evento stabile. Abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa per cinque anni, ma che è semplicemente una pietra a miliare, diciamo uno start-up, per poi andare a sancire questa manifestazione come manifestazione, io la definirei quasi storica, della città, nel senso che dovrà prendere sempre ogni anno di più piede.